È stato beccato a spacciare in città mentre cedeva due dosi di cocaina ad un cliente con il quale aveva preventivamente accordato l'incontro ed è stato così arrestato in flagranza dalla squadra mobile della questura di Arezzo un cittadino tunisino con precedenti. I poliziotti dopo aver accertato la cessione dello stupefacente hanno bloccato i due. Il consumatore ha confermato di aver ricevuto la droga dal tunisino aggiungendo di rifornirsi abitualmente da lui. La perquisizione nella camera d'albergo dove il pusher si appoggiava ha consentito poi agli agenti di scoprire 1.600 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio ritenute provento e dispaccio. Inoltre della stanza c'era anche un iPad, 8 telefoni cellulari, 4 orologi, collane ed anelli. L'uomo per questa merce è così finito nei guai anche per ricettazione. Tutto il materiale rinvenuto, compresa la droga, è stato sequestrato. L'arresto è stato già convalidato dal giudice. Grazie. Grazie.